Musica Bentrovati cari amici di Roba e da Fedagri, oggi ci vestiamo di internazionalità, internazionalizzazione che è una delle parole magiche dell'attività proprio del mondo di conf cooperativa e Fedagri Piemonte e ovviamente livello nazionale e già perché commentiamo il dopo Frui Logistica, ricordiamo Frui Logistica il salone internazionale primario direi dell'ortofrutta, un appuntamento immancabile, appuntamento che ci vede anche sempre presenti come testata. Parliamo di una presenza di oltre 77.000 visitatori specializzati con un parco di aziende sulle 3.100 presenze e ricordiamo che l'Italia è stata presente con 514 imprese di cui la metà sono cooperative. Ricordiamo che a livello italiano mille sono le cooperative che direi danno mercato al Made in Italy. Quindi tutto questo è per dire che la cooperazione anche in ortofrutta è vincente nonostante tutte le difficoltà. Berlino 2018 straordinaria come sempre, un afflusso di pubblico strepitoso, un pubblico che ha apprezzato moltissimo lo stand Italia, lo stesso nostro Piemonte presente in massa, attrezzati anche con una scuola alberghiera che ha sfornato in continuità le primizie del nostro Piemonte, non solo frutticole ovviamente, quindi un afflusso straordinario. Ma un Piemonte che si è presentato sul dato che hai appena detto, un'azienda su due era cooperativa e per noi questo è sicuramente un orgoglio. Le nostre cooperative, le nostre OP sono le prime ad affacciarsi, sono state in passato ma continuano a esserlo con tutte le tipologie di frutta. Ma parliamo di internazionalizzazione e di innovazione anche in senso produttivo. Credo che il nostro Piemonte sia sostanzialmente quella che sta sfornando in questo momento il maggior numero di produzioni innovative, in sostituzione di quei prodotti che hanno un mercato inevitabilmente incaduta. Rimarco infine la presenza istituzionale, ci ha fatto molto piacere, della regione Piemonte, l'assessore regionale dell'agricoltura, funzionari e addetti. Credo che questo stia a significare l'attenzione che non solo per Fedagri e Conf Cooperative il settore ortofrutticolo riveste, ma l'attenzione più nobile, diciamo così, istituzionale della nostra regione Piemonte. E questa bella diva rossa alle nostre spalle, la Mela Rosacunio IGP, si preannuncia anche così da una mecenata efficace del nostro tour tra le OP, le organizzazioni di produttori del Piemonte, che hanno sfoggiato la loro importanza in termini di qualità, innovazione, ma soprattutto di numeri all'appuntamento appunto di Frui Logistica. E quindi partiamo con Ortofruiti Italia, siamo dunque a Saluzzo per ascoltare questo dopo fiere, che in qualche modo ha confermato quanto il Made in Piemonte come identità collettiva sia un'operazione vincente. Quindi Ortofruiti Italia ha racchiuso tutto questo in una strategia molto mirata, direi quasi specializzata su singoli comparti, in cui il valore del servizio abbinato al prodotto e quello del localismo lo fanno un pochino da spirito guida, in modo particolare su piccoli frutti energi. Ortofruiti Italia era presente a Frui Logistica con gli altri operatori del Piemonte, sotto il cappello della regione Piemonte, come da alcuni anni, proprio per rimarcare l'importanza di questo comparto a livello piemontese, ma che si innesca in un contesto più ampio del padiglione del Made in Italy. E questo è un'eccellenza che vogliamo rimarcare proprio in questa vetrina mondiale. Ortofruiti Italia ha presentato il suo progetto dei piccoli frutti e del NERGI, che da alcuni anni sta portando avanti, proprio in un'ottica di specializzazione. Infatti sui piccoli frutti stiamo puntando ai 12 mesi di piccoli frutti italiani. Il nostro partnership l'anno scorso con il Consorzio Mediterraneo va in questa direzione, ma anche una partnership europea. Il progetto NERGI con altri partner cooperative europei abbiamo portato avanti questo progetto di questo nuovo frutto che sta riscostrando a livello della grande soluzione, ma soprattutto dei consumatori, un buon successo. Domenico Paschetta, sei anche leader di Conf Cooperative Piemonte, quindi la tua voce conta molto nell'ambito della cooperazione, che conta molto nell'ambito del prodotto italiano, quindi dell'aggregazione nel settore primario. Se vogliamo, nell'ortofrutta ci sono stati degli importanti passi avanti, segno anche di una regia forte da parte di Conf Cooperative. Sì, la nuova OCEM ha dato questo impulso di creazione di un'opi. Il Piemonte, come sempre, ha risposto all'appello e quest'anno a Friulogistica erano presenti già diverse nuove OCEM sotto il cappello della regione Piemonte, ma anche sotto il cappello della cooperazione. E questo è un importante passo in avanti nell'organizzazione di questo comparto, che purtroppo segna ancora alcune difficoltà, soprattutto su alcune tipologie di prodotto. Su questo ovviamente confidiamo nell'esito del risultato del 4 mazzo alle urne, perché con il Vice Ministro dell'Agricoltura avevamo avuto la promessa di un'apertura di un tavolo proprio per discutere tutti insieme con gli operatori delle difficoltà che sta attraversando questo comparto e cercare di portare delle soluzioni per dare risposta ai nostri produttori. Passiamo a un altro domenico del territorio, cioè Sacchetto, che coordina il grande lavoro di Assorto Frutta, che è un po' proprio il raccordo tra tutte le aziende, le cooperative che hanno preso parte a Friulogistica, oltre che ovviamente rappresentare una delle principali OP, appunto Piemonte Asprofrutt. Quindi una partecipazione molto aggregata, questo è stato sicuramente apprezzato dalla Regione Piemonte, che era con voi non soltanto sulla carta, ma una partecipazione che denota anche un momento non facile per il settore. In particolare quali sono le strategie, quali sono anche i trend della produzione attuale? Sì, quest'anno è stato un anno particolare perché è vero che i prodotti invernali avevano un prezzo alto e remunerativo per noi agricoltori, però dovuto alle gelate primarili c'è stata una scarsità di prodotto veramente importante che ha fatto sì che le aziende avranno un fatturato minore agli altri anni. Speriamo di essere riusciti a lanciare dei mercati nuovi per far sì che anche la frutta estiva, che ormai è in molti anni che va male, specialmente le pesche, riescano a dare un risultato ai produttori. Parliamo della situazione fitosanitaria, è un momento difficile soprattutto su prodotti come le mele. La produzione è stata abbastanza di qualità, ma non come dovrebbe essere. Però c'è la cimice per esempio che ci sta dando enormi problemi. L'assessorato ha fatto un bando sulle reti, questo può dare una mano ma non risolve sicuramente il problema. Hai rilasciato di recente un'intervista alla stampa dove hai tradotto l'ortofrutticoltura del futuro con due parole chiave che sono il biologico e i piccoli frutti, in modo particolare i mirtili. I nostri produttori stanno cercando di diversificare con piccoli frutti, specialmente i mirtili, dove ci sono già 450 ettari piantati nella nostra zona e poi anche sul biologico. Aspoli ha già un 10% del fatturato del biologico, ma pensiamo che in due o tre anni è di arrivare al 30%. Rimaniamo in Europa, la concorrenza guerrita rimane quella della Grecia e della Spagna. Secondo te come si comporteranno con questa nuova stagione? Dobbiamo dire che loro purtroppo sono molto competitivi perché hanno costi di produzione molto inferiori ai nostri e quindi questo ci penalizza veramente in modo importante, specialmente sulla frutta estiva. Quello del problema dei costi di produzione non è l'unico che ha l'Italia e tu hai voluto fortemente che ci fosse la regione Piemonte anche per evidenziare la necessità di dare un'immagine forte di paese su tutte le filiere produttive. Questo servirebbe anche nell'ambito delle fiere. Abbiamo appuntamenti internazionali molto importanti come Frui Logistica che si apre con Berlino a febbraio, a maggio si va a Shanghai in Cina, poi ci sarà a settembre in Asia Hong Kong e poi invece si ritorna in Europa a Madrid, Spagna, Fruit Attraction. Ma l'Italia qual è l'appuntamento dell'ortofrutta italiana a livello di fiere? C'è di nuovo un bel rilancio sul maforo di Rimini, bisogna dire che i presidenti Piracini e Bianchi si stanno dando veramente da fare per di nuovo ampliarla, renderla credibile ai buyer esteri e quindi possiamo dire che gli ultimi anni sta crescendo. Speriamo che quest'anno continui così e diciamo che la fiera di riferimento per l'Italia fa anche lustro a noi produttori perché i maggiori produttori europei siamo noi. Abbiamo qui la nostra mela rossa con IGP che tu rappresenti come presidente del Consorzio di Tutela. Questa mela da quando IGP che svolta ha avuto? Per adesso devo dirlo non ha avuto una grande svolta perché in ultimi anni la mela rossa è sempre andata molto bene sui mercati e quindi io credo che per convincere noi produttori e specialmente chi commercializza a credere in questo IGP, in questo riconoscimento che è europeo, non è italiano, quindi è molto importante deve esserci forse richiesta, un po' meno richiesta di mercato. E continuiamo il nostro tour tra le OP saluzzesi e piemontesi, ci siamo spostati a casa di Lagnasco Group dove abbiamo anche il piacere di conoscere con le telecamere di Robeda Fedagri il nuovo direttore, nuovo per modo di dire perché è da un anno che è insediato, quindi un anno è già un tempo importante. Lo conosciamo volentieri anche perché ci deve parlare un po' di quella che è la svolta di questa bella e grande cooperativa che sicuramente rappresenta anche l'orgoglio di Fedagri, svolta perché? Perché l'OP ha colto appieno quello che è il messaggio di innovazione che richiede il mercato, un mercato in fondamentale rivoluzione come ci ha detto poco fa. Allora direttore, quali sono questi progetti che maturano questa innovazione in cui voi state credendo parecchio? Sì, il mercato è un momento di profonda trasformazione e ovviamente noi vogliamo agevolare questo passaggio verso quello che sarà un nuovo modo di produrre ma anche un nuovo modo di distribuire. Berlino è stato il momento in cui confrontarci anche su alcuni progetti innovativi e strategici che stiamo portando avanti come cooperativa, volti soprattutto su quelle che possono essere nuove varietà da presentare sul mercato, nuovi canali distributivi, processi distributivi e soprattutto anche nuove forme di agevolazione verso i soci per aiutarli ad ampliare i propri terreni. Ragioniamo di mercato, ovviamente lo facciamo insieme a Massimo Perotto che è responsabile commerciale della Lagnasco Group. Allora Berlino è stato sicuramente un momento di ritrovo con tutti i buyer fondamentali della GDO italiana ma anche importanti player stranieri e diciamo che resta vincente un doppio binomio il fatto di costruire una promozione legata a grandi marchi e poi sicuramente aggiungere il valore del servizio al prodotto. In questo voi avete fatto un'operazione vincente con Epli che non è solo una mela ma è uno stile di vita e quindi di benessere. Sì esatto, Epli è il secondo anno di commercializzazione, inizieremo tra poco le prime consegne principalmente alla grande disposizione organizzata, poi estenderemo le nostre prove anche oltre Alpe principalmente in Europa, è una mela che ci sta dando degli ottimi feedback da parte dei nostri clienti e anche dal consumatore finale in virtù anche degli enormi investimenti che sono stati fatti dal nostro gruppo e in primo luogo dai nostri produttori. Ma l'Agnasco Group non è solo mela ma soprattutto non è solo Italia, quindi faccio un attimo un quadro del mercato proprio al rientro da Fru Logistica. L'Agnasco Group da anni consolida il rapporto con la grande distribuzione organizzata italiana ed europea. Negli anni le sfide ci hanno portato ad ampliare i nostri ozonti oltre mare e attualmente l'Agnasco Group esporta in oltre 40 paesi a livello internazionale e stiamo vedendo di aprire nuove frontiere su mercati emergenti. Dobbiamo aspettare per alcuni l'apertura dei bandi per poter esportare il prodotto mela che attualmente è in fase di definizione, però contiamo che nei prossimi due anni riusciremo anche a entrare e far conoscere il nostro brand. L'Agnasco Group commercializza in ordine cronologico mirtilli, albicocche, susine, pesche gialle, pesche bianche e tutto il comparto mele e per finire il kiwi. Biologico per voi, importante quanto? Si è parlato anche di biologico, soprattutto negli ultimi due anni sta prendendo sempre più piede l'idea quindi del sano e del salubre e maggiore attenzione al territorio, quindi il biologico sta avendo un enorme successo. Il nostro viaggio attraverso le organizzazioni di produttori piemontesi, diciamo più nel saluzzese, si conclude con una tappa molto importante, una tappa giovanissima che ha già avuto un cambio di identità in senso positivo. Stiamo parlando dell'OP Joint Fruit che l'anno scorso, sempre con robe da fedagri, abbiamo conosciuto come Fruit Italy. Ebbene, c'è stato un cambio ma soprattutto c'è stato un grande progetto che, come vediamo alle nostre spalle, recita l'unione fa la frutta. Bruno Sacchi, commentaci questo cambio di identità. Sì, è stata un'operazione di immagine. Volevamo dare un senso di identità forte ai produttori e ai nostri soci e abbiamo pensato che creare un'immagine che identificasse bene il nostro progetto fosse la scelta su cui partire per poi incastrarsi dentro i progetti concreti che abbiamo in testa. Fruit Italy è nata due anni fa, un po' più di due anni fa, per l'iniziativa di Sanifrutta e di Ponso. E fortunatamente la famiglia si sta allargando. Adesso i magazzini coinvolti sono altri. Sono entrati nel frattempo la società agricola Tribeca di Centallo, che è specializzata nella produzione di nasci. È entrata nell'OP una nuova cooperativa NatuGrow, proprio per permetterci di allargare e dare le opportunità massime a tutti i produttori che credono nel progetto di aggregazione. E l'ultima adesione è stata quella della cooperativa Mero Frutta di Lagnasco. Quindi Join Fruit, nuovo nome ma anche nuova sede. Proprio perché vogliamo diventare la casa di tutti, accogliente per tutti i nostri soci, stiamo allestendo i nuovi uffici che speriamo di inaugurare nei prossimi due mesi a Verzuolo. È un'aggregazione davvero massiccia, che ha messo insieme cinque magazzini da due con cui siete partiti, ma che soprattutto ha una strategia commerciale altrettanto forte, che avete portato a Fruit Logistica, dove non ci sono stati nuovi volti, ma insomma rapporti già consolidati. Ma qual è il riscontro del mercato, Eraldo? Intanto l'idea è quella di creare una rete di impresa, quindi una rete di più aziende aggregate per ampliare l'offerta ai nostri clienti già storici. Fruit Logistica sempre di più cresce, sempre di più ci dà dei ritorni in termini di nuova clientela, di immagine e speriamo di nuovi mercati. In questi nuovi mercati, Eraldo, possiamo annoverare anche la Cina, insomma un forte sviluppo oltremare nelle vostre intenzioni? Sì, la Cina è un nuovo mercato, nulla toglie a dire che è un mercato difficile, e cerchiamo, con una politica di piccoli passi, che è poi quella che ci contraddistingue, di avvicinarci e fare le prime esperienze. E veniamo alla base sociale, quindi forte aderenza rispetto alle aziende del territorio. Anche per voi la melicoltura è la strategia vincente di sviluppo? Sì, la melicoltura, come ben sappiamo, si sta sviluppando in questi ultimi tre anni, cerchiamo di svilupparla nelle aree vocate. Altri prodotti, abbiamo dei progetti in cantiere su altre varietà per dare, diciamo così, un'ampia scelta ai nostri soci, ai nostri produttori, quindi cercheremo di implementare sicuramente frutte a nocciolo e mirtilli, come ben si sa. I marchi funzionano bene? I marchi funzionano, soprattutto su certi mercati, vedi Spagna, vedi anche in piccola parte Germania, e quindi più delle volte si riesce a vendere il marchio prima del prodotto.